Come Bileda siamo entrati in questo mercato 4 anni fa e quindi abbiamo deciso di partecipare alla fiera per presentarci a tutto il trade di riferimento in questo canale. In particolare in quest'anno con la fusione di Bileda e Gimbi abbiamo deciso di presentare uno stand nuovo anche nel design per presentarci come un'azienda unica e far vedere ai nostri clienti che siamo due realtà, due marchi molto forti ma sotto un cappello unico che è quello del gruppo Freudenberg. È un momento importante per la relazione, per stabilire nuovi contatti, per rinfrescare un po' il contatto con i clienti. Secondo me è un'idea interessante e intelligente perché permette a tutti di partecipare ai convegni e quindi avere questo momento formativo e di dare più spazio anche al momento espositivo che prima andavano a sovrapporsi e quindi l'uno andava un po' a descapito dell'altro. Penso sia la combinazione giusta su due giorni, avere l'evento su due giorni.